È un po' che non parliamo di droni, è vero, sono stato più impegnato a volare, a pilotare che a filmare per spiegare su YouTube. Questo è un Cinewook, è il drone nuovo, si chiama Cinewook perché ha le eliche coperte ed è fatto per delle riprese molto, diciamo, interni e esterni, esterni limitate. Adesso finalmente sto imparando a volare in maniera, diciamo, concreta, riesco a fare quello che voglio e adesso vi faccio vedere un pochino qualche ripresa qui e ditemi cosa ne pensate. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.